Lentini elezioni macchiate, l'imbarazzante e anonimo ruolo di Gregario del PD. Ci accomuna l'impegno a fare del partito nel quale militiamo il PD, l'asse centrale di un centro sinistra inclusivo e a rilanciare temi che appartengono alla sua tradizione politica e culturale come la lotta alla povertà, la giustizia sociale, il lavoro, la riqualificazione ambientale, la parità di genere. Pur tra incertezze e ritardi, la strada imboccata a livello nazionale è quella della costruzione di un'alleanza di forze che si contrappongono alla destra e alle culture politiche cui essa fa riferimento, il sovranismo, il populismo, la messa in discussione della scelta europeista, la discriminazione naziale. Lo affermano in una nota Mario Blancato, Pippo Astuto e Salvo Baio. Per quanto il nostro approccio sia laico e non schematico, crediamo che difendere orgogliosamente l'appartenenza al centro-sinistra e al suo campo di valori sia un principio irrinunciabile per i democratici, senza eccezione. Vogliamo ricordare che all'indomane dell'endorsement del Sindaco Italia al candidato di Augusta Di Mare, esponenti di primo piano del PD e di articolo 1 presero pubblicamente posizione contro la scelta del primo cittadino seracusano di schierarsi al ballottaggio a favore del candidato della destra, rivendicando la tradizione e i valori del centro-sinistra e riaffermando l'alternativa tra culture di destra e di centro-sinistra. La linea politica espressa dal segretario provinciale del PD, Salvo Adorno, punta coerentemente ad allargare in vista delle elezioni amministrative il perimetro del centro-sinistra senza alcuna commissione con forze politiche di centro-destra, proseguono Blancato, Astuto e Baio. Può purtroppo rilevare che l'affermazione di tale linea incontra difficoltà, come ha dimostrato la scelta del PD di Augusta, di sostenere senza il proprio simbolo un candidato civico al sindaco, relegando il partito a un imbarazzante e anonimo ruolo di gregario. Ma ancora più incomprensibile e naturale è l'alleanza che ha preso corpo a Lentini, che vede il Partito Democratico e articolo 1 impegnati a sostenere un candidato al sindaco e espressione di liste che hanno nella destra il proprio retroterra politico e culturale. Spiace dover rilevare che tra i promotori di questa alleanza vi siano gli stessi esponenti del PD e di articolo 1 che si erano scagliati contro il sindaco Italia per l'appoggio a Di Mare, in quanto candidato di destra. Per chi, come noi, viene da una storia di militanza nella sinistra e nel centro-sinistra e ha sempre considerato la destra portatrice dei valori antitetici ai nostri, tale alleanza, oltre ad essere insostenibile, segna una rottura con la tradizione democratica e progressista di Lentini e con il suo patrimonio di lotto per la democrazia e il riscatto sociale. Il compito del Partito Democratico lentinese, a nostro avviso, è costruire, alla luce del sole, un'aggregazione larga di centro-sinistra, non quello di fare accordi trasversali con la destra e addirittura di sostenerne il candidato al sindaco, riducendo il PD a un ruolo subalterno, concludono Blancato, Astuto e Baio. Si tratta di una scelta innaturale che macchia l'identità del PD e del centro-sinistra mettendo in luce una concezione della politica estranea alla tradizione dei democratici.